Le capsule sono state trovate durante l'operazione coordinata dalla procura di Gela denominata Ghost Drug Lab. Le indagini connesse si sono concluse con la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 13 persone originarie delle province di Caltanissetta, Grigento e Catania ed operanti per lo più sul territorio gelese. Le accuse a vario titolo sono di produzione e commercializzazione non autorizzata di capsule dimagranti a base di sostanze classificate come stupefacenti o psicotrope. L'operazione ha permesso di ricostruire l'esistenza di una vera e propria filiera di produzione e distribuzione di capsule e medicinali legali anche attraverso le determinate collaborazioni di due medici dietologi gelesi quali, secondo l'ipotesi sostenuta dalla procura, prescrivevano i propri pazienti l'assunzione dei farmaci nelle terapie a scopo dimagrante. Dalle indagini preliminari è emerso che ogni confezione di capsule prodotta dagli indagati conteneva 180 pasticche a base di efedrina, noto precursore utilizzato per la produzione di sostanze stupefacenti. Il paziente, assuntore per dimagrire, ne assumeva circa 5 al giorno. L'approvvigionamento delle sostanze chimiche necessarie, tra le quali anche il sildenafil e il fenadol, nonché diverse tipologie di amminoacidi, avveniva ad opera di un farmacista locale che si riforniva presso due distributori a Palermo ed in provincia di Prato ed era impegnato al contempo anche nella pubblicizzazione e commercializzazione sotto banco del prodotto sul territorio. La raffinazione delle sostanze era affidata ad un secondo farmacista gelese non iscritto all'albo all'interno di un laboratorio dove, a seguito di perquisizione, sono state trovate le attrezzature ed i materiali utilizzati per la preparazione e la sintesi delle sostanze per uso dimagrante, antinfiammatorio, antidolorifico, anabolizzante e per la cura delle disfunzioni erettili. L'emissione in commercio dei preparati avveniva anche attraverso un bar tabacchi gelese nella diretta disponibilità del farmacista non iscritto all'albo ed anche attraverso una rete di consegna diretta presso le abitazioni degli acquirenti assuntori. In altri casi la commercializzazione avveniva tramite spedizione con Corriere Espresso dietro pagamento del relativo corrispettivo attraverso ricarica di una carta post-pay. Le indagini hanno quantificato in 579 mila euro il profitto conseguito dagli indagati considerando che una confezione contenente 180 capsule a base di efedrina veniva venduta al prezzo di 75 euro.